Porto con me al concerto di Lodi. Abbiamo ritirato i nostri accrediti. Siamo già male, abbiamo sbagliato ingresso, abbiamo sbagliato tutto, abbiamo sbagliato a nasce. Fai vedere il mio outfit. Abbiamo fatto rifornimento. Kinder Bueno, M&X. Che come popcore? Lei sta al cinema. Grazie a Universal per la magnifica posizione che ci ha dato. Possiamo tipo toccarli con un dito. C'è lui che storia, troppo Marco Vingoni. Tutto il palasporto che ha applaudito. E' mia moglie. E' mia moglie. Ma vabbè, c'ha aperto un mondo qua, anormia. Oh, respira, eh. Questa è la mia preferita, top. Oh, sappiamo che dobbiamo correre. Ma Spazio 900, stanno a ballare la tecno. Così non fa, eccola. Deve cambiare mestiere, deve fare la croppata, secondo me. Come fa Roma? Solo con te, io sospiro. Un segno di vale. Vedi Giorgio Alona? Scrivete a Giorgio Alona. Lagrime mie, non lagrime tue. Fammo solo due che è meglio, eh. Mi devo sentire l'ultima canzone dal cesto perché Coco deve andare in bagno. Faccio io il calcetto. Due, tre, alza. Il volume della testa. Niente, Coco non mi ha fatto saldare mia moglie. Ecco, gestivo calcetto. Concerto pazzesco. Grazie Universal per avermi fatto vivere questa experience super figa. Vediamo, ciao. Grazie a tutti.